Le condizioni critiche ed estreme in cui si trova la sanità sarda nuovamente sul tavolo del Ministero della Salute, fatti ben descritti nell'interrogazione presentata dalla parlamentare uristanese del Movimento 5 Stelle Lucia Scano. Secondo le ultime stime in tutta l'isola mancano 1500 tra medici e infermieri. Si tratta di un dato che tende a crescere perché l'età media del personale sanitario è elevata e le due università sarde non riescono a stare dietro ai pensionamenti con un trend che se non sarà invertito vedrà la Sardegna costretta nel giro di pochi anni a dare un alto taglio a prestazioni e assistenza di base. A Montecitorio si conosce bene la storia dell'ospedale San Martino, infatti quello depositato non è il primo intervento in cui compaiono la città di Oristano e la sua sanità gravemente malatta. Nel capoluogo oristanese le criticità sono ormai numerose e gravano pesantemente sull'operato dei sanitari oggi presenti in numero insufficiente rispetto alla necessità del bacino d'utenza della provincia e i pazienti si scontrano con pesanti e enormi disservizi. A Oristano la grave carenza di organico e il progressivo depotenziamento dei servizi sta portando a una situazione precaria che traghetterà il nosocomio verso la chiusura. La carenza di personale si attesta al 30%. Dai reparti arrivano notizie sempre più tragiche. Pediatria ha necessità di 12 medici, oggi ne sono presenti 8. A gennaio 2022 diventeranno 4. Questa drastica riduzione darà il colpo di grazia ai servizi fondamentali per i nuovi nati, per l'assistenza ai ricoverati e al punto nascita si registreranno disagi nell'assistenza al parto, negli ambulatori, nel pronto soccorso pediatrico e nel trasferimento dei piccoli pazienti verso altri ospedali. L'ordine dei medici di Oristano ha più volte denunciato in regolarità nella gestione del pronto soccorso da parte dei vertici della ASL relativamente a decisioni assenti o inadeguate. A questa drammatica situazione si sta cercando di far fronte con l'invio di una società esterna proveniente dal Veneto per svolgere il servizio di medicina d'urgenza con le figure dei medici in affitto nei pronto soccorso di Ghirazza e Oristano. Venerdì scorso si è rimasti incollati alle tv di statue private ad ascoltare i diversi telegiornali che all'interno delle notizie trasmesse vi erano anche quelle dei 1300 migranti che da giorni a bordo delle navi di soccorso erano alla ricerca di un porto sicuro dove poter attraccare. Tra i migranti numerosi bambini, diverse le donne partorienti, il tutto raccontato con fredda e cinica determinazione da speaker che non andavano oltre la narrazione dei momenti di pericolo, riferimenti dovuti ma ridotti alla mera telecronaca. Non una parola viene spesa per richiamare i paesi dell'Unione Europea a fronteggiare con l'Italia quello che diventa ogni giorno di più un dramma dai risvolti sociali che coinvolgono migliaia di persone. Ed è difficile capire il senso di alcuni incontri svolti sia ai massimi livelli istituzionali nei paesi del Nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo, paesi dove vengono organizzati gli imbarchi ad opera di trafficanti di uomini e di scafisti privi di ogni scrupolo. Libia e Tunisia sono i paesi più interessati al traffico umano. Ebbene il ministro degli esteri Di Maio è stato protagonista in Libia di un vertice internazionale mentre il capo dello Stato Mattarella proprio in quei drammatici momenti effettuava una visita di Stato in Tunisia. A causa dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGL, CIS, Wiltratrasporti e Fiadel stamattina Oristano si sono verificati i disservizi nel servizio di raccolta differenziata. In relazione al copisco al numero di addetti che hanno aderito non è stato possibile garantire il regolare svolgimento dei servizi. L'azienda Formula Ambiente ha provveduto all'effettuazione delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 146-1990. Il Comune di Oristano chiede scusa agli utenti per i disagi derivanti da cause che esulano dalla propria competenza. Si assicura comunque la pronta riattivazione del servizio a partire dalla giornata di domani, martedì 9 novembre. Esiste una giustificata attesa per quanto riguarda l'arrivo e la disponibilità dei fondi comunitari del PNRR, 230 miliardi di euro da spalmare ovunque si presentino progetti credibili. Oristano pare ne abbia diversi, in grado, quando sarà il momento, di drenare risorse con assegnazioni certe per garantire il buon fine di quanto il municipio di Oristano tiene in serbo. Ma il discorso si amplia sino a coinvolgere territori e comunità diverse per una occasione che non deve essere vanificata ma che richiede una regia complessiva in grado di guidare le scelte e l'esecuzione dei progetti ma al momento questi sono solo degli auspici. Con una seduta solenne del Consiglio Comunale è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Bosa al Milite Gnotto. Il discorso iniziale è stato pronunciato dall'assessore alla cultura Paola Pintus che, in conclusione, ha descritto la figura del Milite Gnotto come simbolo della unità nazionale e l'importanza della collettività che è continuata con la solidarietà manifestatasi durante la pandemia. Il sindaco Piero Casula, dopo aver illustrato le commoventi vicende che videro l'individuazione di colui che avrebbe rappresentato i caduti senza nome, ha concluso dicendo che ora è necessario costruire ponti di pace. Alla cerimonia rappresenta una nutrita rappresentanza militare. Presenti, naturalmente, le associazioni, sono intervenuti il comandante della compagnia Carabinieri di Macomè Maggiore Giuseppe Castrucci, il tenente di Fascello Fabrizio Frascella, Francesco Di Rio per la Guardia di Finanza e il commissario di Polizia di Macomè. Finita la cerimonia, gli astanti in corteo si sono recati presso il monumento ai caduti dove è stata apposta una corona. Stringata l'essenziale invece è la manifestazione a Macomè. Niente milita gnotto e men che meno discorsi sull'unità nazionale. Al mattino il sindaco Sciucco con le autorità militari ha deposto una corona sul cipo che ricorda a Tossilo il tenente colonnello Becchi Luserna, ucciso mentre tentava di fermare alcuni dei suoi che volevano unirsi ai tedeschi. Poi, sempre accompagnato dal comandante dei guastatori Vittorio Gisonni, ha deposto una corona sul monumento ai caduti. Fin qui la cerimonia. Se però è giusto ricordare chi è morto combattendo per la patria, tanto più umilmente come il milita gnotto, non bisogna ignorare alcuni aspetti meno esaltanti. Per esempio coloro che sono stati mandati senza scrupoli sotto il fuoco nemico, esposti al massacro da ufficiali crudelli e spocchiose. E ancora coloro che furono fucilati in nome di una disciplina pretestuosa e salica. Se, come disse Bertolt Brecht, sventurato alla terra che ha bisogno di noi, non si può non parlare delle cause che scatenarono il primo conflitto mondiale, originato soprattutto dalla protervia e volontà di supremazia delle grandi potenze, per concludere che anche oggi potremmo correre lo stesso pericolo. Quasi 10 milioni di soldati caduti, di cui 15 mila sardi, più un milione di civili durante le operazioni e ancora 6 milioni morti per fame o carestia conseguenti, per non parlare dei crimini come la fucilazione per banali infrazioni. Ce n'è a sufficienza per dare ragione a Bertolt Brecht. Sabato 6 novembre si sono svolte a Cabras le celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate e con essa il centenario della traslazione del milite ignotto all'altare della patria. Il sindaco Andrea Abis e i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose hanno partecipato alla cerimonia nella pieve di Santa Maria Assunta per poi dirigersi in corteo verso le piazze Principe di Piemonte e Azzuni per la deposizione delle corone da loro. Il vice prefetto vicario Danila Congia ha deposto la corona ai piedi della targa al milite ignotto. Il sindaco Abis ha accompagnato l'omaggio al monumento ai caduti. Cento anni fa si decise di onorare per sempre i 650 mila militari italiani che persero la vita durante il primo conflitto mondiale, ha affermato il primo cittadino cabrarese. Anche Cabras diede il suo tributo con i suoi cento caduti, giovani che nella vita erano per lo più pescatori, contadini, braccianti e che vennero chiamati al fronte per combattere una guerra alla quale mai avrebbero immaginato di partecipare. Obedirono la chiamata alle armi e molti non tornarono. Le famiglie di Cabras, riunite in comitato con grandi sforzi proprio nel 1921, riuscirono a dedicare ai caduti la bella opera di Francesco Ciusa. Era presente anche l'Associazione Nazionale Carabinieri e una rappresentanza del mondo della scuola. Venerdì 5 novembre il Consiglio Comunale ha conferito all'unanimità la cittadinanza onoraria al Milite Ignotto. Si è conclusa sabato scorso 6 novembre la prima edizione di Connetica, il Festival delle Interazioni tra Digitale ed Etica, promosso e organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Oristano e Oltre, con il patrocinio del Comune dell'Assessorato alla Cultura e con il sostegno di Fondazione Oristano e Fondazione di Sardegna. Durante la tre giorni del Festival, istituzioni, scuola, professionisti e studiosi hanno dialogato sul digitale e sulla necessità di un'etica ritrovata. Ma non solo. Si è parlato anche di architettura, di luoghi in trasformazione e di un paesaggio che si plasma intorno al futuro. Sono stati gettati i primi semi per future connessioni, volti a creare punti di interazione. Infine, si è parlato di luoghi in trasformazione, ma anche di nodi di evoluzione e cambiamento. È appena finito una tre giorni intensa di appuntamenti di contributi sulle interazioni tra digitale ed etica, faticosa ma davvero entusiasmante, ha affermato Gian Piero Vargiù, presidente dell'Associazione Organizzatrice dell'Evento. Il nostro obiettivo principale, ha aggiunto Gian Piero Vargiù, era disseminare un seme che, e spero, possa dare i suoi frutti in futuro. Come associazione, abbiamo voluto dare alla nostra comunità un'occasione di dibattito ed incontro su alcuni temi cruciali per la nostra vita e del nostro pianeta, di oggi e in futuro. Scuola, lavoro, città di prossimità, solidarie a misura di persona, digitale e nuove tecnologie. Inoltre, all'interno di questo obiettivo, il target principale è stato il coinvolgimento delle giovani e dei giovani e anche attraverso il contributo fattivo del De Castro ci siamo riusciti. Certo, è un inizio, in futuro c'è molto da fare, coinvolgendo tutte le scuole oristanesi. Questi due obiettivi, anche se parzialmente, credo che li abbiamo raggiunti. Sono 30 i casi registrati in Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.553 test. I pazienti ricoverati nel reparti di terapia intensiva sono 6. I pazienti ricoverati in area medica sono 49, 3 in più rispetto a ieri. Non si registrano decessi. A Oristano non si sono registrati nuovi contagi. Ferme anche le guarigioni. Sono giorni di apprensione a Milis per la scomparsa di Fabio Manunza. Il ragazzo, 21 anni, 1,80 m, non dà sue notizie da lunedì 25 ottobre. Dopo un breve periodo di lavoro a Worms, in Germania, Fabio aveva comunicato alla famiglia di voler tornare in Italia, probabilmente a Milano, ma da allora i familiari non riescono più a rintracciarlo al telefono. I tecnici di Abanoa hanno riscontrato un malfunzionamento alla pompa del pozzo di via Pergolesi e stanno intervenendo per la sostituzione delle parti danneggiate. Oggi, fino al completamento dei lavori, potranno verificarsi di servizi alle utenze servite dal pozzo. Questa sera il ponte sul Tirso è stato riaperto al traffico. La chiusura era stata disposta dalla provincia per consentire l'esecuzione dei lavori proclamati per la sostituzione di un giunto di dilattazione. Nuovo appuntamento di poste italiane con l'educazione finanziaria in provincia d'Uristano. Continuano infatti gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie competenze economico-finanziarie. In questa sessione, che si terrà martedì 9 novembre alle ore 18.30 in modalità webinar, l'iniziativa coinvolgerà oltre 100 clienti degli uffici postali di Via Mariano, Galleria Omodeo e Via San Francesco in città, e quelli di Arborea, Marrubius, San Nicolo d'Arcidano, San Veromilis, Simagis e Terralba. Nuova giornata di raccolta di rifiuti nelle campane di Cuglieri, organizzata da un piccolo gruppo di semplici cittadini. Appuntamento dunque domenica 14 novembre. La seconda giornata, che prevede la partecipazione degli scout a Gesci della zona di Oristano e Nuoro, verrà dedicata alla bonifica del territorio devastato dall'incendio e alla riflessione su quanto successo attraverso l'ascolto delle testimonianze e della comunità. Grazie per la visione!